Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books Io sono Tiffany e oggi sono super contenta di fare un book tag nel quale sono stata taggata da Andrea di Leggo Scatto Viaggio che è il Pride Book Tag e visto che questo mese è il mese del Pride io avevo grandi progetti che sono naufragati visto che io devo smettere di fare progetti per giugno e luglio visto che è la stagione dei matrimoni ed è già molto se riesco a mangiare mi dispiace perché avevo veramente tante tante collaborazioni super fighe che spero di recuperare presto quindi direi che per ora vi porterò qualche contenuto legato proprio al mese del Pride non è esattamente quello che volevo fare quello che avevo in mente però comunque spero siano dei contenuti comunque interessanti niente, quindi ci tengo tantissimo ovviamente a fare questo book tag perché penso sia molto interessante e vi posso dare qualche consiglio di lettura come sempre e direi di partire allora la prima domanda chiede primo libro LGBT con tematica LGBT lette in assoluto allora io direi che escludendo Anne Rice della quale vi parlerò dopo in una domanda credo che, cioè non so se il primo libro con tematica LGBT che io abbia letto sia L'Orlando di Virginia Woolf oppure Le Memorie di Adriano della Jursenar allora devo dire che non mi ricordo precisamente quale dei due io abbia letto prima sono due libri che amo tantissimo e che vi consiglio ovviamente cioè sia L'Orlando è una pietra miliare della letteratura inglese e in generale comunque anche delle tematiche LGBT per quanto riguarda la fluidità di genere e invece Le Memorie di Adriano ripercorrono la vita sembra quasi un po' una sorta di biografia proprio atto finale di memorie dettate dal grande imperatore che però ripercorrono anche tanto della sua vita privata e la diciamo la relazione soprattutto con Antino e non lo so, sono due libri che io amo tantissimo quindi vi consiglio di leggerli chiaramente non ricordo di preciso proprio il punto in cui io abbia letto prima uno prima l'altro comunque io ho iniziato a leggere tantissimissimo di letteratura che possiamo chiamare del Novecento soprattutto tra la seconda e la terza superiore quindi è in uno di questi due anni qua e sono passati un po' di anni lo sapete io non ricordo cosa ho mangiato ieri figuratevi cosa ho letto 15 anni fa allora la seconda domanda invece mi chiede un libro LGBT plus che consigli come primo approccio al tema io qua non ho dubbi perché ve l'ho già consigliato molte volte comunque sto parlando di Aristotele e Dante scoprono i segreti dell'universo in italiano vedrete questa copertina vedrete una roba orribile che sembra un libro didattico diciamo che se superate il primo impatto il senso di obrobrio che provate nei confronti della copertina italiana e passate oltre io non ho letto la traduzione non so dirvi come sia ma questo è un libro adorabile penso che sia uno dei libri che tratta il tema dell'omosessualità con una delicatezza incredibile è soprattutto una storia di amicizia ed è per quello che a me è piaciuto moltissimo e anche di scoperta di se stessi però lo fa in una maniera dove la storia personale non diventa il tema centrale cioè la storia familiare i problemi che sono al di fuori delle persone che sono gli agenti esterni che ovviamente però fanno parte della vita stessa dei nostri due protagonisti diventano il tema vero del racconto e il legame che si viene a creare tra i nostri due protagonisti secondo me è qualcosa di molto dolce molto toccante e che ha tutti i presupposti per essere reale è qualcosa che io davvero ho adorato è stato molto 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 davvero credo dolce e delicato siano i modi il modo perfetto per descrivere questo libro che consiglio a chiunque si voglia approcciare al tema tre, ultimo libro LGBT plus letto allora escludendo Middlesex che è il libro che io ho riletto e che avevo già letto per il gruppo di lettura per il Miss Fiction Book Club ho letto davvero tanto ultimamente riguardo il tema LGBT o comunque che abbiano a che fare anche col tema LGBT una è The Prince and the Dressmaker che adesso è appena uscito in italiano la mia copia è di là sì, vero, ok e quindi niente è un libro che io ho trovato adorabile parla di crossdressing e di una relazione di una persona un po' queer che però è in una posizione dove la sua identità e il suo modo di essere non sono ben accettati e scoprirà invece che scoprirà tante cose e la nostra Sarta che diventa la sua migliore confidente e anche quella che crea i vestiti di Lady Cristaglia che è l'alter ego del nostro protagonista niente, è un libro che io ho trovato adorabile anzi è una graphic novel che io ho trovato adorabile che vi consiglio moltissimo l'ho letta circa due mesi fa e non posso fare altro che consigliarvela altro libro che ho letto di recente che è una storia per bambini che avrete visto all over the internet ovvero Il giorno specialissimo di Marlon Bondo io ne avevo già sentito parlare tanto tempo fa credo a fine anno del 2018 da John Oliver che è una delle mie persone preferite nel mondo mi fa ridere sempre tantissimo tutte le sue puntate sono su YouTube se non lo seguite fatelo mi raccomando per avere uno sguardo anche sulla politica americana sulla cultura americana e tante cose e questo è un libro che ha creato super scandalo in America perché è una storia per bambini con tematiche quelle che chiamerebbero tematiche gender il gender nelle scuole e in realtà assolutamente no racconta la storia di due coniglietti e del fatto che si vogliano sposare ma c'è qualcuno che glielo impedisce e il fatto di non capire anche perché due coniglietti che si amano tanto non si possano sposare è una storia per bambini però penso che il modo in cui racconti una cosa così semplice come l'amore e come l'amore non possa avere barriere e che nessuno può creare delle barriere all'amore sia davvero molto giusto e anche toccante per tanti di noi che sono un po' più adulti è un perfetto esempio anche per i bambini che assolutamente non saranno traviati dalla teoria del gender che non esiste però invece questo è un libro molto carino l'ultimo libro che ho letto che ha a che fare con tematiche LGBT è fresco fresco ve ne voglio parlare nel wrap up di questo mese ed è Beauty Queens di Libba Bray è un libro che io pensavo fosse non so come dire Mean Girls e mi sono ritrovata invece con un libro che ho rocolato davvero soprattutto per la rappresentazione le tematiche che affronta parliamo di tantissime tematiche che hanno a che fare con il mondo LGBT di gender parliamo parliamo comunque di identità di genere parliamo di omosessualità parliamo di sessualità in generale e soprattutto parliamo di che cosa voglia dire l'identità ma soprattutto anche di supporto femminile questa è una cosa molto molto positiva e come aprirsi anche su determinate tematiche che abbiamo sempre tenute nascoste per via delle etichette che ci diamo sia qualcosa che ci soffochi alla lunga e che ci impedisca di essere effettivamente noi stessi ma soprattutto di creare dei rapporti autentici con gli altri è un libro che mi ha sorpreso tantissimo che vi consiglio tanto e nel prossimo wrap up ve ne parlerò nel dettaglio anzi sto seriamente pensando di fare una recensione proprio dedicata a Beauty Queens ci penserò comunque la prossima domanda chiede qual è il libro preferito per le tematiche LGBT plus e io sarò scontata banale quello che volete ma io su questo libro ci ho perso innanzitutto tutta l'idratazione del mio corpo piangendo qualsiasi cosa dai miei dotti lacrimali perché la canzone di Achille di Madeline Miller mi ha profondamente segnata è stato un libro che per me ha significato moltissimo è un libro che dal punto di vista emotivo del racconto della progressione della trama è incredibile ha un tipo di narrazione Madeline Miller che è epico ma nel senso moderno del termine nel senso che riesce a riadattare con dei termini moderni il senso di epicità della storia e in questo caso lo struggimento non avviene solo per gli altissimi fatti che accadono altissimi nel senso classico del termine ma soprattutto per la vicenda tra i nostri due protagonisti Achille e Patrick che tutti sappiamo come va a finire io ci ho perso davvero un pezzo di cuore dentro questo libro ve ne ho parlato in lungo in largo su quanto io lo ami è un libro meraviglioso è un libro bellissimo è toccante è commovente è epico è davvero costruisce i personaggi la loro evoluzione ma anche il rapporto dei personaggi che man mano cambia man mano si evolve man mano si acuisce però si scontra anche con la realtà e con le aspettative personali in una maniera cioè ho i brividi ho i brividi solo a parlarvene perché davvero è bellissimo non so più come dirvi di leggere la canzone di Achille se non l'avete mai ancora fatto nella vostra vita perché avete sprecato del tempo se non l'avete letto ve lo dico allora questa è una domanda quale risponderò in maniera molto strana perché è un personaggio lgbt plus preferito e io da un bel po' cioè da quando lessi tutta la saga della Rice in particolare il vampiro l'estat io avevo una passione per il personaggio che forse meno rappresenta lo stereotipo di come viene rappresentata cioè so che è un discorso un po' complesso però di solito i personaggi lgbt fanno sempre da spalla comica da comic relief da quello che fa le battute quello allegro quello sempre fuori dalle righe invece Nicolà Delefant di Anne Rice tratto dal vampiro lestat di tutta questa cosa qua la prende e la butta fuori dalla finestra perché Nicolà è un personaggio che è profondamente depresso e che quindi affronta una crisi esistenziale che ovviamente è eterna perché è un vampiro cioè eterna chiamiamola eterna cioè Nicolà è proprio diverso ha questo malessere che si porta continuamente ovviamente dentro e nelle sue relazioni con il prossimo soprattutto con l'està e con tutto ciò che ruota attorno alla loro vicenda viene tutto permeato da questo senso di negatività in più è cinico fino all'esasperazione davvero ha una visione del mondo così amara che è taglientissima e ha chiaramente una leggerissima tendenza all'autodistruzione io ho un personaggio che ho amato cioè io ho un personaggio che ho amato profondamente perché è proprio fuori da ogni canone di rappresentazione dell'ambiente LGBT perché spesso davvero è una cosa che infastidisce me che non faccio parte della community ma mi considero un'alleata quindi anche vedere qualcosa di molto diverso anche agli albori nella prima domanda quando vi dicevo che non ero certa se avessi letto prima Unrise o il resto ne sono un po' non ne sono certo del tutto però le rappresentazioni in tv dell'amico gay sono sempre di un certo tipo dell'amica lesbica sono sempre di un certo tipo invece in questo modo l'està ci introduce un personaggio che è completamente fuori da ogni schema è diverso io l'ho adorato l'ho amato chiaramente la sesta domanda invece chiede un libro con tematiche LGBT plus che non vedi l'ora di leggere e io ne ho veramente tanti quindi adesso vi parto con un elenchino allora volevi leggere Pantomime o Pantomime sono un po' nel dubbio di Laura Lam che racconta una storia magica ambientata nel circo di un personaggio che si chiama Jean che esteriormente è una donna o comunque si presenta come una donna ma non è solo una donna credo da come viene descritto il libro è molto vago chiaramente che sia intersex ma potrebbe essere tranquillamente transessuale non lo so devo leggerlo quindi prima che io dica castronerie devo leggerlo poi vorrei leggere sempre in tema intersex perché ultimamente mi sto riappassionando dopo aver riletto middle sex vorrei leggere Golden Boy di Abigail Totsline che racconta la storia di Max e della sua famiglia che sono molto bravi a mantenere segreti ed i segreti nella vita di Max ce ne sono tanti questo è come viene presentato il libro sono molto curiosa davvero e l'ho già comprato quindi prima o poi succederà l'altro titolo che assolutamente voglio leggere This is how it always is di Laurie Franke in questo caso voglio leggere questo libro perché invece tratta di transessualità infatti seguiamo la storia di una famiglia che è la famiglia perfetta classica finché un giorno Claude che è il figlio più piccolo che già fin da piccolo aveva la passione per il trucco per il dressing il cross dressing e sognava di fare la principessa fa coming out e dice a tutti che non si sente un ragazzo ma si sente una ragazza e questo sconvolge tutto l'ambiente familiare e la famiglia cerca di tenere la cosa molto nascosta chiusa in casa ma le cose sono sempre state quello che sono This is how it always is e quindi prima o poi questo segreto verrà fuori sono molto curiosa è un altro libro che è incentrato su una tematica familiare su delle dinamiche familiari e viene sempre descritto come un libro davvero estremamente toccante e divertente quindi sono molto curiosa ultimissimo libro sulla mia TBR LGBT plus la possiamo chiamare è The Art of Being Normal di Lisa Williamson in questo caso ci troviamo a vedere la storia del nostro protagonista che viene creduto da tutti gay ma in realtà non è gay ma è transgender non sa nemmeno come definirlo non sa nemmeno capirlo e ci vorranno tante situazioni che accadono a scuola nel quotidiano anche l'appoggio di amici e della propria famiglia per capire la propria identità di genere e sono molto curiosa anche per questo libro e in realtà in generale io preferisco leggere libri con tematiche LGBT inserite però in un contesto che non sia il trattare unicamente la tematica no? cioè preferisco che siano inseriti in altri contesti e devo dire che di questi sulla mia TBR a parte Pantomime tutto il resto sono assolutamente invece più incentrati sulla storia vorrei davvero approfondire più tematiche transgender intersex eccetera perché credo ci sia sempre troppo poca rappresentazione di questi all'interno della comunità di Booktube si parla sempre di gay di coppie gay di omosessualità sempre troppo poco anche di ambito lesbico è vero però pochissimo dell'ambito transgender queer gender fluid intersex eccetera quindi vorrei concentrarmi anche un po' su queste tematiche che davvero trovo sempre troppo poco espresse 7 coppia LGBT plus preferita allora io ricordo a tutti che io non sono una fangirl non c'è niente di male a essere una fangirl io non lo sono e devo dire che quelle che mi sono venute in mente che io proprio amo e ricordo al di là di Achille Patroplo che sono nell'Olimpo in tutti i sensi sicuramente ci sono Adam e Ronan di The Raven Cycle di Maggie Steve other sono la dolcezza fatta coppia non solo vabbè Ronan non c'è proprio dolcezza Adam si Adam povero ciccio e niente comunque li adoro sono una coppia molto carina che secondo me ha davvero dato qualcosa in più al Raven Cycle che spero finiscano di tradurre in Italia poi sicuramente Simon e Buzz di Carry On perché sono carini cioè è un po' di quelle coppie un po' che boh però fanno sempre molto colore e poi anche se è un po' Wylan e Jasper di Six of Crows barra Crooked Kingdom direi quasi più Crooked Kingdom perché sono la coppia più bella di sempre punto spero di vederne molto di più nel terzo libro di Six of Crows quando mai uscirà e io li adoro li amo però questo è diventato un po' la fiera del maschio bianco e quindi non c'è nessuna coppia un po' più particolare però devo dire che non avendo così tanto a cuore la questione delle coppie perché non me ne frega niente delle coppie mi interessa più l'evoluzione personale e questi tipi di tematiche legati alla storia e al tema LGBT devo impegnarmi di più sicuramente l'ottava domanda chiede un libro che tratta male il tema LGBT plus io avevo detto che non ne avrei mai più parlato e quindi non ne parlerò ma questo lo vedete tutti questo è come non fare rappresentazione 9 prossimo libro LGBT plus che leggerai allora in realtà lo sto leggendo in questo momento e non è il tema centrale non è LGBT plus ma ce l'è in abbondanza già il secondo capitolo proprio abbondante è Darkstone di Jay Kristoff ovvero l'ultimo capitolo di Nevernight che mi sta uccidendo in tutti i sensi se non lo farà il libro lo farà mia quando uscirà in Italia l'ultima domanda in realtà che è la 10 non è una domanda ma invita a taggare le persone come sempre consideratevi tutti taggati perché è un book tag che trovo super utile far girare il più possibile all'interno della comunità taggo sicuramente Elena di Miss Nerily se non è già stata taggata e non l'ha già fatto la Francesca di Quiet Blizzard e sicuramente l'Elena di Elena Razzioni sono molto curiosa di vedere cosa andate poi a fare anche voi ecco niente ripeto consideratevi però tutti taggati e quindi niente io vi ringrazio di aver trascorso un po' di tempo insieme a me io purtroppo non potrò partecipare al Pride di Bologna perché la gente si sposa io devo fare le foto alla gente che si sposa il 22 ho un matrimonio però probabilmente sarò al Pride di Milano adesso dovremo un po' organizzarci per questa cosa e niente io vi ringrazio tantissimo vi invito ovviamente a partecipare al Pride della vostra città o a spostarvi durante questo mese perché è molto importante essere presenti e farsi vedere perché non è una cosa che riguarda solo la comunità LGBT plus ma il sostegno a tutta la comunità anche di chi è un alleato è importantissimo a mio parere e far sentire la propria voce e difendere i diritti di tutti significa difendere anche i propri diritti perché prima o poi arriveranno anche ai vostri niente io vi ringrazio come sempre per aver trascorso un po' di tempo insieme a me e direi che ci vediamo al prossimo video ciao